Folla sul lungomare, ristoranti sold out, traffico paralizzato nel centro di Napoli. Come se il covid non esistesse, il previsto effetto San Valentino si è abbattuto sulla città nella giornata ieri. In tantissimi, soprattutto coppie ai giovani, a passeggio sul lungomare. Molti indossavano correttamente la mascherina, molti no. Tutto esaurito nei ristoranti, alcuni dei quali hanno accolto a pranzo prenotazioni in due turni per soddisfare le richieste, ma sconcertare soprattutto l'ingorgo creatosi all'ora di pranzo nel centro. Intanto la Regione Campania ha preso provvedimenti per evitare un simile caos anche a Carnevale. Con l'ordinanza numero 5, firmata sabato mattina dal Presidente De Luca, è fatto di vieto di feste e di ogni altra forma di aggregazione, in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al uso, nonché di cortei ed altre manifestazioni di qualsiasi forma connesse al Carnevale. Si invitano i sindaci ad inibire l'accesso alle piazze ai luoghi tradizionalmente destinati ad iniziative connesse al Carnevale, fatto salvo il transito per l'ingresso agli esercizi e servizi insistenti. Si ribadisce inoltre che anche alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni in contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa il più possibile. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte, relative al distanziamento e uso corretto delle mascherine.